Andiamo a vedere l'occasione, abbiamo avuto tre palle di gol, veramente tre e quattro, se non mi ricordo, veramente da far gol. Purtroppo nel calcio, quando hai queste situazioni, devi cercare di far gol, perché se ti va bene e fissi 0-0, se non rieschi di perdere. Purtroppo dopo ci siamo un po' abbassati, in ultima quarta ora è vero che loro hanno preso più campo, però senza mai tirare in porta. Perché anche nel primo tempo avevano questo stesso palla, ma lo sapevamo, però senza mai farci male, la partita l'hanno preparata bene. Ragazzi l'hanno interpretata bene e abbiamo avuto le occasioni da gol e purtroppo non facendo gol, poi le partite, è vero che dopo abbiamo preso gol alla fine, quindi nell'ennesimo gol così, alla fine, al 92-93, quindi è un peccato, perché poi a quel punto della partita probabilmente dovevamo cercare di portare solo 0-0, perché perlomeno non ci accontentava, però perlomeno non perdiamo il derby, perché ci dispiace, perché chiaramente per i tifosi, per tutto l'ambiente, però ai ragazzi non gli possono provare nulla, perché io da allenatore sono orgoglioso, perché oggi hanno fatto una partita da non fare, hanno creato e se c'è una squadra come Esotet che doveva meritare il vantaggio eravamo noi, però nel calcio purtroppo si vince se fai gol. Se no, quindi...